buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è sabato 8 giugno 2024 quante volte abbiamo ripetuto questa data 8 e 9 giugno nel corso della campagna elettorale che si è conclusa ieri sera con gli ultimi comizi si è rispolverata anche la formula dei comizi con un palco in piazza in diverse località della nostra regione gli ultimi appelli al voto andate mi raccomando a votare questo hanno detto i candidati innanzitutto poi ognuno sceglierà la schede anzi il simbolo su cui votare nella scheda è il problema delle elezioni impera ancora oggi su tutti i quotidiani vediamo pubblicate le liste che compongono le varie coalizioni vediamo soprattutto le istruzioni al voto di cui poi parleremo vediamo anche quando si aprono i seggi quando si potrà andare a votare quando inizierà lo spoglio insomma tutte le istruzioni d'uso per questa importante campagna elettorale che decreterà la prossima amministrazione di diverse città delle Marche per i prossimi cinque anni ma attenzione sarà anche un punto importante per le elezioni europee perché dalle decisioni europee dipende gran parte della nostra esistenza per i prossimi cinque anni come sempre passiamo però attraverso l'almanacco del giorno e vediamo il santo che si festeggia oggi anzi non un santo è una ricorrenza dopo aver festeggiato ieri la festa del sacro cuore di Gesù oggi la chiesa celebra il cuore immacolato della Beata Vergine Maria è una festa che fu istituita da Papa Pio XII nel 1945 a ricordo della consacrazione della chiesa e anche del genere umano fatta nel 1942 quando l'Europa era in preda alla seconda guerra mondiale e soffiavano venti di guerra è una festa quindi quanto mai attuale quella di oggi in quanto quanto ancora la guerra purtroppo è tornata a devastare molte molte città dell'Europa e questa è una devozione praticata già dal Medioevo da Santa Matilde e da Santa Gertrude da San Bernardino da Siena e da San Giovanni Battista di Ode che su di esse ascrisse un mirabile trattato quindi oggi la devozione al sacro cuore immacolato della Beata Vergine Maria Le previsioni del tempo Prosegue la fase anticiclonica sulle Marche una fase assolata le temperature massime saranno comprese tra i 29 e 34 gradi i venti saranno prevalente a regime di brezza sulle coste spireranno da sud nell'entroterra da ovest e sud ovest la minima è 22 gradi la massima abbiamo detto raggiungerà anche i 34 il mare è calmo il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.47 ed ora apriamo i giornali a partire dal resto del Carlino sulla pagina di Fano e vediamo appunto la finale l'exploit di questa campagna elettorale che ormai è giunta al termine con, devo dire, grande fatica da parte di tutti gli interessati che sono arrivati stremati dopo mesi e mesi di incontri dibattiti di confronti con gli altri candidati per questo appuntamento politico tutti comunque ci sperano dice bene il resto del Carlino oggi si comincia a votare dalle ore 15 e poi domani invece tutta la giornata e ieri si sono svolti gli ultimi appelli dei due candidati Fanesi e Serfilippi in piazza 20 settembre alle 18.30 quello del centro-sinistra era presente anche l'eurodeputata Bonafè insieme ai candidati appunto del centro-sinistra Fanesi in testa ma c'erano anche i candidati del Consiglio Comunale mentre Serfilippi è intervenuto dopo cena alle 21 è stato anche qui un un comizio in cui sono ribadite le tesi le priorità del centro-destra la gente esulta segue e applaude come fosse una festa insomma anche questa è tornata come fosse una chermesse ma vediamo anche qualche curiosità in merito a questa campagna elettorale a 104 anni l'elettrice più anziana di Fano mentre sono 238 i neo diciottenni che voteranno per la prima volta urne aperte oggi domani sono 68 i seggi nel comune di Fano oggi dalle 15 alle 23 domani dalle 7 alle 23 per le elezioni comunali sindaco e consiglieri e le elezioni europee i rappresentanti italiani al Parlamento di Bruxelles nella nostra città a Fano sono 50.308 i cittadini aventi diritto di voto sono 24.247 i maschi e 26.061 le femmine le femmine sono sempre tradizionalmente come numero superiore a quello dei maschi se l'elettrice più anziana a 104 anni il più giovane è nato il 9 giugno del 2006 ci sono poi cittadini italiani che esercitano il loro diritto di voto all'estero per solo le europee e sono 1.304 ovvero 721 uomini e 583 donne e poi insomma ci sono altre altre notizie utili per quanto riguarda l'espressione del voto che è interessante poi leggere e veniamo anche agli ultimi appelli al voto Cristian Fanesi e Luca Serfilippi ci sono avvicendati come abbiamo detto sul palco eretto in piazza 20 settembre il candidato del centro-sinistra ha concluso la sua campagna tra le lacrime sì Cristian Fanesi si è commosso si è commosso ricordando l'inizio di quando è entrato in politica nel momento in cui ascoltò Romano Prodi che venne a Fano nel 1996 da allora decise di non solo ascoltare non solo di stare alla finestra ma di interpretare le esigenze dei fanesi e poi vediamo anche Serfilippi grande entusiasmo nel centro-destra con quest'ultimo appello al voto decide chi sceglie di andare a votare ha detto il candidato del centro-destra poi ha puntato l'attenzione sui quartieri che è stato un po' il leitmotiv della sua campagna elettorale l'ascolto nei quartieri l'intermediazione fatta tra i cittadini e l'amministrazione comunale in modo da fare valere quello che veramente vogliono i cittadini che abitano poi anche delle frazioni periferiche accanto a Luca Serfilippi c'erano tutti i segretari dei partiti di coalizione c'era l'assessore regionale Stefano Aguzzi e il parlamentare europeo Mirko Carloni candidato anche lui della Lega alle europee non manca Marcheggiani Marcheggiani certo siamo uniti e vincenti la prima tappa ha fatto presente la consigliera regionale Marta Ruggeri che sostiene la candidatura di Marcheggiani e conquistare il ballottaggio la seconda è vincere questi sono gli obiettivi che si pone la Lega che forse è una delle rappresentanti più rappresentative della coalizione dei progressisti dobbiamo sconfiggere la destra sarebbe una sigura se andasse al governo della città noi siamo altra cosa dalla Lega e da Vannacci ha concluso Marcheggiani la nostra è un'alleanza inedita sperimentale ma unita ha detto e coesa quindi questo è quanto ha detto Marcheggiani lasciamo per un momento la politica comunque la riprenderemo perché poi rimbalza da una pagina all'altra anche nelle altre località e veniamo alla cronaca l'apertura della seconda pagina del resto del Carlino una vicenda rievocata in tribunale una bambina che è stata oggetto di interessi non certo sani da parte di un parente almeno così sembra poi le cose devono essere verificate devono essere accertate come si sono svolte veramente il nonno mi toccava a casa e al mare un racconto sciocche di una bimba di sette anni ieri il giudice ha ascoltato la piccola per ripercorrere i fatti denunciati solo la nonna quindi la moglie del nonno non ci crede per quanto è avvenuto comunque i genitori hanno allontanato la figlia dal nonno che in questo momento è sotto accusa furti senza tregua nei cimiteri servirebbero telecamere ovunque e questo purtroppo è un episodio che fa male al cuore non tanto per il valore delle cose trafugate ma per quanto queste cose rappresentano nei ricordi nella sensibilità nella memoria dei parenti dei defunti sono piccole cose a volte un mazzo di fiori a volte un baso a volte un piccolo ricordo che è stato messo sulla tomba a testimonianza dell'attaccamento che il defunto aveva per questo oggetto per quanto riguarda magari i suoi interessi furti senza tregua sono accaduti nel cimitero dell'olivo in quello di Rosciano in quello di Caminate in quello di Ferreto e di Roncosambaccio quindi non solo nel cimitero centrale ma anche nei cimiteri agricoli nei cimiteri periferici innumerevoli le segnalazioni che sono arrivate alla polizia locale da parte dei parenti dei defunti le cui tombe sono state vandalizzate in prevalenza scompaiono fiori vasi e piantine ma come dicevo vengono rubati anche ricordi che vi vengono depositati si tratta di oggetti di piccolo valore economico ma di grande significato affettivo per chi li porta il segno di una relazione d'amore che vive anche dopo la scomparsa della persona cara ed è questo che fa male al cuore e quindi ci vorrebbero veramente delle telecamere ma mettere dappertutto si capisce che non è possibile ci vorrebbe soprattutto insistere sulla educazione sul rispetto di certi valori che poi rappresentano il legame di una comunità di una comunità periferica come di una comunità urbana nel suo complesso giriamo la pagina giriamo la pagina e parliamo della caserma perché per quanto riguarda tutte le destinazioni che sono state ventilate per l'utilizzo di questa grande struttura si tratta soprattutto della palazzina comando che fiancheggia Viale Gramsci a Fano ebbene qui c'è una proposta fatta dall'ex sindaco Cesare Carnaroli che cosa possiamo farci di questa caserma l'amministrazione comunale avrebbe deciso di trasferirvi il comando della polizia locale più alcuni uffici del comune come l'urbanistica i lavori pubblici eccetera Carnaroli invece fa un'altra proposta dice perché non ci facciamo degli appartamenti a Fano esiste una emergenza abitativa ci sono tanti appartamenti sfetti ma che non vengono poi dati a chi ne ha bisogno e la lista degli aspiranti delle case popolari si dilunga sempre di più e allora qual è la proposta di Carnaroli è di fare come è stato fatto in passato cioè fare come è stato fatto con Palazzo Boccaccio con Palazzo Boccaccio con l'ex scuola marittima con Palazzo Baldelli dove si è dato un segno di respiro a coloro Palazzo Fabri anche come si è dato un segno di respiro a coloro che avevano bisogno di una casa si è trasformato questi grandi palazzi in tanti appartamenti di case popolari e secondo Carnaroli sarebbe opportuno trasformare la palazzina a comando della caserma Paolini in tanti appartamenti ne uscirebbero 43 addirittura è veramente un grande un grande complesso che potrebbe dare un momento di respiro a tutta la necessità di case che esiste a Fano e poi ci sarebbe anche il Vittorio Colonna il Vittorio Colonna potrebbe essere adibito ad una rasse potrebbe dimezzare il fabbisogno di case a Fano viste le 300 domande che insistono nell'ultimo bando per le case popolari insomma per le case di edilizia pubblica che qui basterebbe soltanto ristrutturare questo grande edificio che è un grande contenitore a due passi dal centro storico vediamo ora le notizie dell'entroterra soprattutto dei comuni della valle del Cesano o anche loro interessati dalle elezioni sono cinque i comuni della Val Cesano nei quali si vota per il rinnovo del sindaco e delle componenti del consiglio comunale questi comuni sono San Lorenzo in campo Frate Rosa Monteporzio San Costanzo e in questo articolo si fanno gli ultimi appelli al voto essendo tutti questi comuni sotto i 15.000 abitanti non è previsto il ballottaggio il nuovo primo cittadino come i consiglieri eletti saranno individuati proprio subito dopo lo spoglio lo spoglio che comincerà lunedì prossimo a Santipolito e a Cattoceto non c'è competizione sono due liste uniche non ci sono competitor e quindi il sindaco deve soltanto raggiungere la maggioranza per poter essere eletto una percentuale per quanto riguarda almeno i votanti Urbino Urbino urne aperte la città è pronta al voto dalle 15 alle 23 come in tutte le altre località si potrà esprimere le preferenze domani dalle 7 alle 23 ecco l'elenco di tutte le sedi dei seggi per le comunali e le europee e qui in questo articolo appunto ci sono tutti gli elenchi che debbono essere posti in evidenza tanti comuni con un solo candidato la sfida sarà per avere il quorum così come vi ho detto in molti centri anche non solo nella Val Cesano ma in tutta la provincia in molti centri come Borgo Pace Monte Cerignone Peglio non si è creata la contrapposizione e quindi il sindaco il candidato sindaco che si propone l'unico candidato a Pietrarubbia con 581 abitanti ci sono invece addirittura tre liste pensate sono non dico che sono molti di più i candidati dei votanti però insomma è una bella percentuale a Cagli ci sarà il duello invece più acceso così evidenzia il resto del Carlino vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesolo ovviamente si parla anche qui di campagna elettorale la città sceglie il dopo Ricci comunque vada sarà una svolta prevede il resto del Carlino Biancani sarebbe il successore ma difficilmente nella continuità anche se il PD rinnovasse il candidato sindaco e questo fosse eletto ebbene ci sarà una discontinuità rispetto a quanto ha fatto Ricci mentre Lanzi cerca l'impresa storica quella di battere il centro-sinistra che a Pesaro tiene il governo da dopoguerra si può dire dopo che il centro-destra ha conquistato le Marche e Ancona l'incognita delle due liste civiche che potrebbero fare la differenza e c'è chi va al voto a 17 anni occhio ai nuovi seggi una ragazza diventerà maggiorenne addirittura domani e quindi domani potrà votare ma oggi non può andare alle urne oggi dalle 15 alle 23 non può andare alle urne domani invece quando compie 18 anni potrà farlo modifiche anche per alcune sezioni a causa dei lavori ed è previsto un servizio navetta per chi non può deambulare con i suoi mezzi l'addio a Milena Ugolini una cattedrale blindata per questo personaggio storico della città di Pesaro presenti il ministro Bernini e la senetrice Liliana Segre la titolare del dicastero della università Milena grazie di cuore per avermi accolto nella tua vita ha dichiarato commozione per il ricordo della sorella Paola Tittarelli la titolare del dicastero della università è il ministro appunto Bernini e poi un lutto un lutto per un nuovo incidente stradale che si è verificato vicino alla Pica a Pesaro un posto maledetto questo per il traffico schianto mortale davanti alla Pica muore un motociclista di 45 anni si chiamava Roberto Ferrazzano era originario della Puglia ma viveva nel nostro territorio da tempo sono gli illesi gli occupanti dell'auto che ha investito questo giovane tra cui alcuni bambini lui era in sella ad una moto ed era residente a Valle Foglia per cause in corso di accertamento si è schiantato contro un'autovettura guidata da una donna con a bordo appunto dei bambini ed ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico vediamo l'apertura l'apertura su Fano dedicata dedicata questa volta alle terme di Carignano dedicata alle terme di Carignano perché proprio ieri l'avvocato Maurizio Natali portavoce della proprietà delle nuove terme è andato a Radio Fano e ha continuato a parlare di questo progetto di cui non si sapeva più niente da tanti tanti mesi vi ricordate la grande presentazione fatta al teatro Masetti con grande affluenza di gente un video molto molto accattivante molto molto suggestivo sembrava che le cose procedessero speditamente invece da allora non si è saputo più niente ed era l'autunno inverno del 2022 e da allora sono passati diversi anni però insomma non è detto che si è lasciato perdere tutto le cose hanno continuato a maturarsi seppur lentamente e dobbiamo dire che ci sono state anche diverse difficoltà che Natali racconta in questo articolo non è soddisfatto il comitato contro il polo logistico dell'ex zuccherificio dell'assicurazione fatta da fanesi per quanto riguarda la esclusione delle aziende insalubri da questa zona i residenti vorrebbero qualcosa di più vorrebbero proprio che il polo logistico fosse trasferito e non rimanesse nell'area dell'ex zuccherificio e poi invece sono stati conclusi i lavori per la nuova passeggiata di Torrette il waterfront che qualifica il lungomare di questa bella località turistica l'altra sera è stata aperta simbolicamente la passeggiata è stata aperta al tramonto in una suggestione di colori e di luci veramente accattivanti ed ora i lavori dovrebbero continuare però per spostare tutti i parcheggi che sono al di qua della ferrovia verso la battigia invece a monte della ferrovia per lasciare libera tutta la zona pedonale del lungomare due pagine due pagine per quanto riguarda il voto il voto elettorale sfida a tre condizionata dalla sanità è stato il maggior argomento dibattuto in campagna elettorale e ne queste due pagine si pubblicano anche tutte le liste che costituiscono le tre diverse coalizioni che si confrontano quella di Cristian Fanesi candidato sindaco del centro-sinistra quella di Stefano Marchegiani candidato sindaco dei progressisti e quella di Luca Serfilippi candidato sindaco del centro-destra in piazza un dj set è quello che si è svolto ieri pomeriggio ieri sera e due concerti prima del silenzio d'ora in avanti la voce passa agli elettori e non più ai candidati sindaco e la stessa cosa si fa poi anche nell'entroterra si elencano le liste che caldeggiano la elezione di questo o di quel candidato e anche le ultime le ultime cose programmatiche a Senigallia tre candidati corrono da soli abbondanzieri ad Arcevia Chiù a Barbara Sebastianelli a tre castelli l'avversario è il quorum anche qui non hanno avversari Montemarciano Grilli contro Magnini Belvedere Ostrense sfida tra Ubertini Baldi e Federici e voglio concludere la nostra rassegna stampa con una notizia che riguarda anche qui Pesaro dove si parla ovviamente di politica corsa per essere sindaco 38 poltrone e 70 candidati a Pesaro sono quattro gli sfidanti ma questi ormai li conosciamo è qui e noi chiudiamo i nostri giornali e vi diamo appuntamento come sempre a lunedì prossimo ancora non ci saranno grandi notizie ma a martedì ci sarà veramente una rassegna stampa fiume grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto